ciao benvenuti sul canale, benvenuti alla serie car of the day oggi abbiamo questa bellissima nissan nissan skyline gtr la gtr 33 vedete gtr 33 e prodotta nel 2017 l'hanno diciamo fatta uscire in bianco col col grafio e la grafica di gozilla perché questa nissan qua è considerata gozilla i giapponesi la chiamano gozilla perché è una macchina cattiva c'era un 3000 di cilindrata 3000 volt quindi la macchina che diciamo rispetto alle classiche 2000 che facevano era considerata un po quella più cattiva questa e la supra erano le due macchine diciamo poi in un'altra onda nsx su e tante altre però inizialmente erano quelle un po più cattive le prime macchinine cattive macchinine macchine cattive macchinine macchinine noi noi ci accontentiamo delle macchinine e quindi è uscita questa qua guardate vedete dietro è ben dettagliata davanti non c'è una fava è uscita in questo bianco e ultimamente è uscita anche nella versione in grigio eccola qua è uscita proprio da poco questa serie japan import quindi questo è una recolo e quindi andiamo un po a vedere intanto ciao bentrati sul canale è venuta la serie car of the day è questa è una serie car of the day adesso poi facciamo anche riprendiamo un po fare i video anche che ho iniziato con la nuova serie dedicata a dearcast cool story dove mettiamo un po di modelli parliamo un po della storia del modello soprattutto del modello originale potevamo farlo di verità con questa perché la la nissan gtr ha tutta una sua storia c'è tutta una sua evoluzione effettivamente è una macchina mitica considerata molto anche in in europa in inghilterra ci sono tantissimi appassionati perché una macchina che ha una base sia di meccanica che di motore veramente di telaio veramente interessante con queste macchine qua come con la supra arrivano a tirare fuori anche mille cavalli penso macchine diciamo facilmente preparabili a una bella base di motore e soprattutto anche il telaio e tutto quindi questa è la nissan gtr questa appunto di altre epoche la gtr 33 e di altri periodi adesso c'è c'è nuova gtr cianismo belle macchine che mi piacciono mi piace tanto perché sono un po così aggressive sono macchine aggressive e questa l'hanno fatto in questo grigio parco uscita questo grigio parco vedete sempre con la marchiatura gozilla sulla fiancata con la zampata di gozilla sapete no chi è gozilla avevo già detto l'altra volta in un video da questo pseudo dinosauro grande lucertolone che usciva dal mare e andava diciamo a distruggere città giapponesi e era una sorta giapponese di king kong infatti poi hanno fatto un film una serie dedicata gozilla contro king kong insomma quelle giapponesate giapponesi gli piacciono queste cose qua questo lucertolone enorme che appunto sfasciava tutto e quindi l'ha chiamato gozilla perché era fortissimo era questo cosa bestia forte una bestia forte questa è una bestia di macchina che praticamente ha veramente tanti cavalli è questa qua facile da da preparare una bella macchina da preparare effettivamente ai tempi io mi ricordo che insomma ne cercavo erano tutte guida a destra e quindi a me io non ho problemi con la guida destra perché essendo stato parecchio in giro per il mondo mi è capitato più volte di andare nei paesi con la guida destra quindi non ho e mi sono trovato benissimo non ho questo problema però so che in italia magari può essere un problema per l'omologazione via dicendo poi vabbè lasciamo per non l'ho presa quindi nutre divagare e queste qua si trovavano anche insomma abbastanza a buon prezzo anche se come macchina reale effettivamente diciamo tiene e tiene il prezzo perché appunto è molto ricercata è molto ricercata in europa poi non è che ne sono venute tantissimo poi tutte quelle che sono diciamo vendute poi sono state elaborate per appunto una macchina facile da elaborare quindi è una macchina che viene sfruttata parecchio e niente questa quindi la gtr 33 bellissima era già una delle di quelle che io preferivo è già una delle mie preferite poi sono uscite le ultime le altre successive che quelle sono salite anche di prezzo anche questa macchina qua poi diciamo come prezzo di listina in giappone non è che costasse tanto costava poco di più di una berlina normale quindi ha avuto tanto successo anche per quello perché effettivamente non anche la gtr l'ultima inizialmente costava sui 60 mila euro una macchina che può essere paragonata insomma a vedere supercar adesso aumentata costrui 120 mila euro adesso ormai ormai è tutto aumentato anche delle anche le panda adesso sono aumentate che costano quasi 20 mila euro una panda per dire quindi non c'è storia anzi adesso dicono che vogliono passare tutto all'elettrico quindi diminuiranno la produzione delle macchine endotermiche e quindi perderemo un po questa cultura qua ma peccato peccato perché per gli appassionati di motori queste sono veramente delle icone anche se noi in europa in italia soprattutto magari la conosciamo poco e noi preferiamo anche le nostre belle amate macchine italiane da corsa sapete con le lancia con l'alfa romeo e quindi diciamo le abarth la parte delle ferrari e maserati diciamo queste qua hanno un loro perché perché sono queste tecnologie giapponese che è effettivamente molto valida molto valido ma anche le nostre lasciavano diciamo ha fatto la storia ha fatto la storia però adesso non divarghiamo su questo discorso sono andiamo sempre in polemica e lo sapete che io quando quando posso difendere i nostri prodotti italiani niente questo invece è questa invece da tanto di cappello perché giapponesi hanno fatto veramente un ottimo lavoro con questa macchina qua ed è appassionata apprezzata appunto da tantissimi appassionati niente dai quindi oggi ci siamo visti questa Godzilla qua una nuova recolo in questo grigio opaco guardate che bella che è è molto interessante perché effettivamente schieriamo un po è un bel colore un bel colore adesso vediamo quante ne escono delle altre adesso non so quante ne sono uscite a dire la verità come colorazioni pensavo di avere le altre colorazioni invece mi sono sbagliato e avevo preso questa ma invece la gtr 32 modello precedente quando l'ho vista una scatoletta di auto non neanche l'altro poi quando l'ho tirata fuori no questa è la r32 perché noi di gtr ne abbiamo veramente tantissime abbiamo una scatoletta e mezza da 60 quindi avremo una novantina di modelli ne abbiamo veramente tante perché è una di quelle qui che mi piace appunto non ho quelle macchine che mi piacciono quindi quando le trovo le prendo tutte quelle che trovo niente dai per oggi è tutto allora mi raccomando aspetta un tuo commento fammi sapere cosa ne pensi di queste macchine ma soprattutto di queste macchinine anche delle macchinine perché noi siamo qua a parlare di macchinine poi siamo anche appassionati di auto vere di auto sportive perché abbiamo diciamo nel nostro background del discorso delle competizioni e quindi niente dai fammi sapere cosa ne pensi se ti fa piacere se non è ancora fatto lì iscriviti al canale suona la campanellina mi raccomando condividelo con i tuoi amici perché abbiamo bisogno di crescere se ti fa piacere guarda anche quei video lì ci vediamo domani con un nuovo modello ciao